Giordani, Berlio. Sedi aggiunte e posizionate a distanza di sicurezza, spazi vuoti per garantire il droplet, la parte dedicata al pubblico chiusa per la prima volta. Il Consiglio Comunale non è accessibile ai cittadini, ma è una misura necessaria. Ecco come si è svolta la seduta a Palazzo Moroni. Prima di entrare in aula il sindaco dà il buon esempio e si disinfetta le mani con la mucchina seguito dai consiglieri. In apertura, dopo l'appello, il Presidente del Consiglio Comunale Tagliavini ha ringraziato tutti i presenti per il loro impegno. Grazie ai consiglieri a cui questa sera viene imposto un sacrificio, un disagio, perché grazie a loro si possono ottenere il Consiglio in condizioni di sicurezza. La seduta è stata necessaria perché la Giunta ha portato in aula il congelamento delle imposte comunali per cittadini ed esercenti, un provvedimento che per la prima volta ha ottenuto il consenso unanime. La prima rata della Tari, prevista in scadenza a marzo, slitta a maggio. Così come la Cosa, povero il canone di occupazione del suolo pubblico rinviato a giugno, potrebbe essere inoltre ricalcolato tenendo conto delle restrizioni introdotte dal decreto del Governo. Tutti d'accordo, almeno in questo caso, la politica si è dimostrata unita. Palazzo Moroni poi ha deciso di sospendere dal servizio fino al Teapille i nonni vigile, in quanto categoria a rischio contagio. Le cucine popolari garantiranno un pasto caldo solamente a pranzo, per la cena è previsto il cestino.